Grazie Saluto i representi Grazie 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 Allora Ottimi ghiaccio Ma Vorremmo parlare della gara Però Che è successo stanotte Un bel tefilera E' la sabato sera Non dico che foto che ho visto E' bello E' bello comunque trascorrere Dai weekendi con gli amici Si ha un po' di cogliardia ci sta Si 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 Mentre per quanto riguarda La gara sempre con il tuo splendido Renault 5 Grazie La gara è un percorso abbastanza tecnico E anche un po' di seriosi Devo dire in verità Però Alla fine è andata bene Ci siamo difesi Abbiamo portato la bambina su integra Questa volta l'abbiamo portato su integra E Non è semplice da gestire Purtroppo che comunque si scivolava tanto Poi il 5 logicamente Non è che si fanno gestire Con il turbo Però dai Ci siamo divertiti Abbiamo vinto lo storico E va bene così Va bene così Grazie Premiati Quattro piloti Prima per ogni classe Partiamo da Loris Martino Autostoriche Loris Martino Ed ecco Loris Martino che ci ha raggiunto Sali anche tu a premiare insieme al presidente Poi chiamerei Ivan Cristian Fava Ritira Ritira sempre Loris Martino E andiamo avanti Gianmarco Grandinetti Sempre Autostoriche Gianmarco Grandinetti Eccolo qui ci ha raggiunti Gianmarco Grandinetti Benvenuto Ed ecco la sua coppa Gabriella che consegna la coppa